Bene Beppe, dove siamo arrivati? Siamo arrivati a Magliano Sabina. Appena fuori... Sabino. Sabina, Sabina. Sabina. Otto Charger appena fuori di Roma, poco sopra qua, cos'è che c'è? Roma Nord, siamo vivendo Viterbo praticamente. Comunque abbastanza comodo per l'uscita diciamo venendo da Nord perché abbiamo fatto un giro un po' particolare per arrivarci, non il più comodo ma comunque diciamo che ha un ottimo supercharger anche perché qui abbiamo otto stalli come abbiamo detto ma dietro di noi non so se si vedono ma in caso dopo vi facciamo vedere meglio c'è due NLX dove potete caricare eventualmente anche altre auto elettriche. Il panorama qui dietro è interessante e soprattutto però questo è il primo supercharger che vedo con una terra battuta quindi se avete la macchina immacolata magari potreste evitarlo se proprio siete un po' anche a Cerignolo. Ah vero? Anche a Cerignolo. Se arrivate col traino opposto ce n'è non è facilissimo l'accesso perché un po' stretto un po' pendente si passa davanti l'ingresso di questo albergo ristorante che dopo parleremo ci sono macchine parcheggiate quindi noi ci siamo passati giusti cioè senza troppi di difficoltà però proprio giusti ecco. Come state vedendo dalle immagini c'è un buon ristorante un buon ristorante dove noi ci siamo fermati ci siamo fermati a mangiare frutto anche dei vostri commenti e dei vostri suggerimenti che ci avete dato nei giorni precedenti c'è un'ottima griglia soprattutto il ristorante è buono non abbiamo provato il pesce perché c'era anche a menù però la carne il pesce? sì c'era anche pesce a menù. Ah beh no. Però insomma la carne perché entrata è molto scenografico c'è il caminetto c'è e comunque i proprietari sono molto attenti alla mobilità elettrica sia perché hanno le supercharger sia perché hanno l'NLX ma anche perché per chi viene qui come state vedendo adesso c'è qualche servizietto extra potete stare all'interno della piscina dell'hotel posto il fatto che posto il fatto che voi date 10 euro di caparra per gli asciugomani oppure ve li portate da casa avete l'accesso libero alla piscina che vi garantisco che su una giornata di questo tipo e niente ragazzi siamo troppo brutti per essere ripresi anche dalla videocamera si è rifiutata esatto se stava così bene in piscina invece al massimo potete vedere me che faccio un perfetto stile libero che perché forse quella clip è rimasta ma comunque per concludere il video di Magliano Sabina che è un ottimo è un signor supercharger è un signor supercharger soprattutto per i servizi e soprattutto probabilmente come diceva Beppe fuori da fuoricamera è uno dei candidati a essere il migliore vedremo la fine di questo viaggio se la gioca bene beh ricapitoliamo due cosine sono 8 stalli V2 più 2 NLX l'accesso è molto vicino all'autostrada però c'è una strada molto stretta quando si passa a fianco al ristorante per andare verso il parcheggio dove ci sono i charger che è sul retro diciamo e in ultima è sterrato ed è sterrato quindi di spazio ce n'è in abbondanza per mollare giù qualsiasi train o qualsiasi cosa a patto che dovete insomma un attimino calcolare tra la rampa d'accesso e la larghezza della stradina però se ci passa la macchina ci passa tutto un po' di attenzione bene ragazzi come al solito per questo supercharger è tutto e ci vediamo al prossimo ad Arezzo ad Arezzo bravo che ti sei ricordato ciao 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 ciao